Il Bellinzago vince in casa del Gatinara, resta Amaro in casa Gatinara che non vince dalla primo di settembre, andiamo a vedere le occasioni. Primo tempo di marca Sporting fino al 27esimo, Manasiev da sinistra, palla dietro per Baldi che cerca di piazzare, palla sul palo. Al 29esimo calcio di punizione di Baldi, mischia in area, Manasiev viene messo giù, calcio di rigore, dal dischetto Massaro fa 1-0. Al 34esimo Papa su punizione a sorpresa, sul secondo palo arriva Dedin, dimenticato da tutti, strepitoso, Boari in angolo. Al 45esimo ancora Gatinara, punizione di Papa, tiro debole, Boari respinge di pugno sul contropiede, grande occasione lo Sporting con Massaro che all'ultimo sbaglia il passaggio per Manasiev e Marchetti in qualche modo libera il Gatinara dal possibile 2-0. Nella ripresa parte subito forte il Gatinara, dopo un minuto rimessa, dorme la difesa dello Sporting ma ci mette una pezza, un coraggiosissimo Boari. Ancora Gatinara al 14esimo, Papa spizza per Porcelli che non trova la porta di poco. Al 20esimo tramarin, buca, Massaro tutto solo, ritarda il tiro che viene deviato dalla difesa. Al 31esimo rosso diretto a Papa, Gatinara in 10, non succede più nulla solo l'espulsione al 44esimo di Visciglia che prima subisce un brutto colpo poi protesta e viene espulso dall'arbitro. Finisce così Sporting Bellinzago 1, Gatinara 0 in casa del Gatinara. Grazie. Grazie a tutti.